6 gennaio 2009 Ecco qua la Befana, come potete vedere, no non è uno scherzo, è il nuovo TG, è il primo TG del 2009 e siamo qui per comunicarvi che abbiamo già mandato la scheda per la nuova partecipazione Per i pronostici nuovi Per i nuovi pronostici, esatto, come potete vedere ci troviamo in un parco alle porte di Milano e speriamo che queste festività siano andate bene per tutti e quale conclusione migliore di queste bellissime vacanze con una nevicata così È una roba fantastica Ciao a tutti concorrenti della Champions League 2009 da Otto Biscotto e dal vostro Paco Lopo Paco Lopo Siamo noi Sì, siamo noi Ciao, ciao Ma che non è venne Eh sì, ma ci siamo quasi Ciao Guardate, guardate che roba, guardate che roba È bellissimo una grandiosa nevicata Ciao a tutti Ciao